Per noi questo è un talk sulle web performance in azienda, fatto guardando a delle scene di film in chiave Oscar. Quindi la presentazione ovviamente comincia con il leone della MetroColdingMauer. Nel prossimo video metto il microfono vicino al computer così spero sentiate tutti. Questo sono io, in bella compagnia naturalmente, chi sono? Sono Matteo Fogli, sono torinese, tra web, grafica, design e diverse esperienze. Sono quasi 25 anni che lavoro, quindi ho cominciato quando internet era nascosta dietro le BBS e Fidonet. Su Twitter mi trovate con questo handle. Tre anni fa, dopo diverse esperienze, ho fondato una società che si chiama Modo. Insieme a Emanuele che è qui in sala e insieme ad Andrea che era il ragazzo che ha fatto il talk della volta scorsa. Siamo una piccolissima società, siamo in cinque, facciamo sviluppo front-end, consulenza front-end, ricerca e sviluppo sempre in ambito front-end web e supporto design e ottimizzazione sulle performance. Abbiamo la fortuna di lavorare con clienti grossi, questi sono alcuni di quelli per cui abbiamo lavorato o stiamo lavorando. Questo anche per dare coraggio a chiunque di voi abbia un'idea di fare qualcosa molto di nicchia o molto di qualità e non si spaventi dal fatto di essere da solo o in pochi a dover magari mettersi sul mercato con delle realtà molto molto più grandi. Ciò si può fare anche in Italia. Visto che siamo in tema di film, una nota che prendo in prestito dal talk di Andrea. Ci saranno parecchi riferimenti e parecchie parole in inglese. Di solito non mi piace, non ci piace abusare di termini in inglese, però spesso sono necessari e per di più sfruttando il tema dei film a volte quasi obbligatori. Cominciamo. I punti sono sette, quindi come portare le web performance in azienda ed è un modo per vederle attraverso i film. Questo ve lo faccio sentire. Best opening. Non c'è poco da sentire. Grazie. 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 La prima cosa da fare per cominciare, perché uno dice come si comincia, come si porta in azienda un discorso sulle web performance, come faccio a parlare di web performance in un'azienda che magari ha dei processi consolidati, team, referenti, stakeholder diversi coinvolti a vario titolo nei progetti web. La prima cosa che bisogna fare è informare, senza minacciare. Sulle web performance troverete tantissimi dati, spesso in chiave un po' minacciosa, cioè quanti soldi si possono perdere, quanti clienti si possono perdere, quanti utenti si possono perdere, quante mancate conversioni. E' tutto vero. Vale per noi, nel senso che per noi deve diventare una spinta a cominciare a lavorare su questi temi. Per le aziende forse il metodo migliore per cominciare ad approcciarli non è quello di spaventarli, minacciare e sostanzialmente condannarli prima ancora che possano capire di che cosa si sta parlando. WPO Stats è un sito che presenta gran parte di questi elementi informativi spesso linkati a contenuti, paper, talk, conferenze di pubblico dominio, però raccolti sotto un unico cappello. Quindi le potete filtrare per qualsiasi tipo di chiave o tag per anno, per tipologia di cliente o di azione e quindi potete cominciare a farvi un'idea o magari raccogliere alcune evidenze che possono essere utili per cominciare a introdurre il discorso nel contesto lavorativo in cui siete. L'altro strumento che potete utilizzare è una serie di analisi di scenari di mercato. Anche qui ce ne sono diverse. Vedrete più avanti che quando parliamo degli strumenti per monitorare e misurare le performance, spesso gran parte di questi siti anche in chiave marketing naturalmente rilasciano della documentazione o delle slide piuttosto che dei white paper. Anche qui tutto materiale che si può tranquillamente utilizzare per andare a mettere in evidenza degli elementi magari della concorrenza piuttosto che del mercato che possono essere utili per cominciare ad avviare un discorso. Questa cosa si può fare alla macchina del caffè, si può fare convocando riunioni, il metodo e le modalità chiaramente sono proprie più del contesto di come ognuno di voi si sente a suo agio. Però sicuramente non parlare solo di performance in termini radiosi e anche però un po' ingenui ma avere dei numeri e degli strumenti per motivare le proprie scelte. Il terzo strumento sono, quindi qua per esempio vedete un'analisi che ho fatto più di un anno fa, per esempio anche qui c'è l'opportunità di aggiornarla magari in proprio voi su un segmento di mercato su cui può avere un'utilità a presentare la propria posizione rispetto a quella dei concorrenti. Questa è un'analisi fatta sugli editori, quindi sui giornali online, sui tempi di caricamento e sulle dimensioni di pagina e di risorse presenti. L'ha fatta Pingdom, c'è un riferimento in calcio. Il terzo strumento sono i white paper, questi di solito sono dei documenti un po' più orientati verso degli utenti di tipo marketing o decisionale, quindi diciamo in area business. Noi ne abbiamo scelti, ma giusto per questa presentazione alcuni che mettono in evidenza o dei fattori strutturali. La visione normalmente dei white paper è di tipo globale, quindi sul mercato locale è più difficile trovare della pubblicistica interessata. Però ci sono dei dati molto interessanti, per esempio forniti da Google o da Akamai o da Ericsson, che danno una fotografia di quelli che sono i macro fenomeni, quindi per esempio la penetrazione dell'utenza mobile, la continuità d'uso dell'utenza mobile, il fatto che in diverse parti del mondo, anche fortemente evolute da un punto di vista sia tecnologico, sia di potere d'acquisto, per esempio la linea fissa non è più un riferimento dal punto di vista della connettività domestica. E questo è un elemento da tenere presente in chiave di performance, non tanto per il fattore banda, quanto per esempio per il fattore latenza. Quindi il fatto che il tempo di connessione e di interscambio di informazioni aumenta, perché di mezzo c'è una rete cellulare che è più lenta di una rete su cavo. Una delle cose che per esempio noi come modo abbiamo fatto è pubblicare uno di questi white paper, sostanzialmente raccogliendo evidenze e informazioni da altri autori, più alcune analisi che abbiamo raccolto a livello autonomo sul mercato Italia, per dare un inizio di approccio al mondo delle performance. Anche questa è un'azione che si può fare senza avere la pretesa di essere nessuno dei grandi nomi da Akamai a Ericsson o ad altri, ma anche come esercizio per capire la serietà dell'approccio, quindi trovare dei numeri che giustificano le proprie affermazioni e metterle insieme con un ragionamento e un'esposizione che sia molto sintetica, perché va degli interlocutori che hanno poco tempo da perdere, è contemporaneamente convincente. Il secondo passo per cominciare a parlare di performance o avviare un processo di adozione di tecnologie, processi, approcci in generale dal punto di vista dello sviluppo, del controllo, dell'avere in testa il tema delle performance, è darsi gli obiettivi che siano raggiungibili. Quindi non seguire quello che sono ovviamente i casi migliori presenti sul mercato, quindi voglio avere un sito che si carica in meno di un secondo, tutto completamente in lazy load, che funziona su ogni tipo di device, compresa da Smart TV e così via, ma avere degli obiettivi raggiungibili soprattutto rispetto al contesto esistente. Quindi si può andare per gradi, anzi si deve andare per gradi, e non bisogna pensare che qualsiasi intervento, anche piccolo, che però sia un successo dimostrabile, non valga perché è troppo insignificante rispetto ad un obiettivo grandioso. Vale tutto, vale ridurre il peso delle immagini, quindi anche soltanto risparmiare banda trasferita verso gli utenti sulle immagini del sito, vale ridurre il totale delle risorse, quindi scaricare meno file complessivamente per una pagina, piuttosto che ottimizzare il caching delle risorse, quindi fare in modo che visite ripetute degli utenti scarichino meno informazioni rispetto alla prima visita. Su questo per esempio ci sono anche dei dati di tipo comparativo, quindi questa è una fotografia attraverso gli anni, quindi dal 2011 fino al 2015, quindi è vecchia quasi di due anni, sul crescente ingombro delle immagini e soprattutto sul crescente peso delle pagine, con una previsione che arrivava a oltre i 3 mega a metà del 2017, e oggettivamente, senza aver fatto dei test sistematici, però siamo arrivati sostanzialmente a questo livello. Quindi per riassumere la pillola da portarsi a casa da questo primo Oscar con la scena di Forrest Gump, è cominciare e non fermarsi. Secondo candidato, best repeated scene. Sì, potrei avere le lezioni di peraporte? Oh, certo, ora ho uno studente, ma se voleri passare domani possiamo... Vorrei iniziare adesso per cosa... Le do mille dollari. Ah, va bene. Venga. Quello! Venga. 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 Signor Connors ha detto che è la sua prima lezione. Sì, ma mio padre trasportava pianoforte. questa scena che spero conosciate tutti naturalmente è di Groundhog Day che è un film che in italiano è stato tradotto con Ricomincio da Capo e poi è stato rifatto in Edge of Tomorrow quindi Senza Domani, quello con Tom Cruise a tema completamente diverso se lo conoscete sapete che sostanzialmente lui si risveglia tutti i giorni nello stesso giorno e quindi ogni giorno va dall'insegnante di musica per imparare a suonare il pianoforte perché sta cercando di conquistare la giornalista con cui è andata a fare il servizio in questa cittadina e tutti i giorni lui va e ogni giorno sa fare un pezzettino in più e questa cosa di ripetere e iterare ogni giorno con un piccolo miglioramento progressivo è esattamente quello che si fa nell'ambito dell'ottimizzazione o in generale diciamo di un approccio strutturale alle performance perché lavorare sulle performance non è un'operazione per cui arrivo, faccio un intervento miglioro il risultato del sito, me ne vado e ho finito di lavorare non è così, meno male tra l'altro nel senso che così c'è anche molto più lavoro per tutti nel tempo ma soprattutto perché anche se il sito non dovesse mai cambiare anche se voi non doveste mai pubblicare un contenuto diverso e quindi di fatto il contenuto del sito non dovesse mai cambiare cambiano le condizioni di fruizione degli utenti e quindi su quello un intervento di monitoraggio va comunque fatto quindi per sostanzialmente lavorare sulla parte di ottimizzazione iterativa la prima cosa da fare è misurare perché? Perché se non sappiamo dove siamo non sappiamo se abbiamo fatto meglio o se abbiamo fatto peggio se ci siamo dati degli obiettivi che abbiamo visto per esempio nelle slide precedenti sappiamo se stiamo andando verso un miglioramento diciamo delle nostre prestazioni rispetto a quegli obiettivi oppure no e questo ce lo dicono i numeri gli strumenti per misurare le prestazioni di un sito sono diversissimi e anche qui scegliere quelli che possono essere più utili alla vostra causa o al modo diciamo di entrare in un'azienda e portare un approccio alle performance può essere molto diverso il primo che vi cito è anche quello sostanzialmente da un punto di vista tecnico o da un punto di vista diciamo così di maturità di un approccio alle web performance quello più inadeguato ma è quello più vicino alla sensibilità di un interlocutore di tipo marketing o business ed è Google Page Speed Insight Google Page Speed Insight è un voto è un indicatore sintetico che fa una media pesata di elementi tecnici quindi il numero delle immagini, il fattore di compressione la velocità di erogazione del lato server del sito la compressione del trasferimento di tutti gli asset e così via e calcola un punteggio questo punteggio va da 0 a 100 essendo un voto non misura in realtà niente con particolare fedeltà però vi restituisce un numero che ha un valore ed essendo un voto praticamente è quello che nessuno vorrebbe vedere a meno che non sia il voto ovviamente migliore non c'è niente di meglio o di peggio ovviamente a seconda del voto che si prende di un voto Google Page Speed Insight però ha due vantaggi il primo ripeto che per un interlocutore che non capisce nulla da un punto di vista tecnico è un numero e se quel numero lì aumenta avete fatto molto bene il vostro lavoro se quel numero lì diminuisce c'è qualcosa che non va e non importa se questo numero è 5 o 99 quindi dove vi manca 1 per arrivare a 100 che è il massimo oppure dove siete a fondo scala fondo scala diciamo di quelli del sito elefantiaco che si muove con una velocità veramente ridicola questo ho preso un esempio assolutamente a caso il Financial Times ha fatto un discreto lavoro viaggia su un punteggio di 88 che è nella zona verde per Google Page Speed Insight cioè va tutto bene sostanzialmente si può migliorare ma è un ottimo punteggio su mobile per esempio ha un punteggio in zona arancione 79 ma anche questo direi che da un punto di vista di un'infrastruttura come può essere quella del Financial Times è un punteggio assolutamente di primissimo rilievo l'altra cosa utilissima di Page Speed Insight è che vi dà in ordine di priorità quindi sostanzialmente le indicazioni che vi dà in termini di cosa dovete correggere sono quelle sono ordinate per il maggiore punteggio che vi consente di raggiungere quindi un intervento in questo caso per esempio su il CSS e il JavaScript bloccante dal punto di vista del rendering nella porzione di pagina sopra la piega quindi diciamo così in quella visibile al primo caricamento sul device è quello che può restituire il maggiore incremento di punteggio altri strumenti che possono essere utilizzati per misurare le performance di un sito sono Pingdom Pingdom è uno strumento molto sfaccettato con diverse diciamo sotto strumenti diciamo tool Pingdom misura l'uptime di un sito quindi principalmente è nata come infrastruttura di misurazione della vitalità di un sito quindi il fatto che un sito non per qualsiasi ragione sia sempre disponibile e risponda sempre alle chiamate nel browser ha una suite di test anche questi che calcolano una serie di punteggi vi danno una serie di indicazioni su quelli che sono gli elementi da migliorare lo strumento è gratuito dal punto di vista dell'uso quindi voi potete andare collegarvi inserire una URL e fare un test chiaramente se voi avete la necessità di un approccio ripetitivo quindi dove ogni giorno o ogni ora o con qualsiasi frequenza vogliate monitorare il sito ci sono chiaramente dei pacchetti dei piani a pagamento che utilizzano questa infrastruttura che però potete validare diciamo da un punto di vista di interesse in maniera gratuita sul piano enterprise ci sono tutta una serie di strumenti che non vi facciamo vedere in realtà soprattutto perché hanno dei costi di apertura di account e in generale diciamo così di ingresso abbastanza elevati Soast è stato il primo strumento di real user monitoring quindi un approccio alla misura delle performance non tanto con una sonda che va sul sito effettua le misure e ve le restituisce quanto con una sonda inserita all'interno del sito che quindi viene scaricata da tutti gli utenti che raccoglie la misura delle performance sui device e sui browser degli utenti che scaricano e che accedono ai contenuti del sito New Relic e Calibre sono sostanzialmente dei wrapper di web page test che è lo strumento principale di monitoring delle performance anche qui hanno delle componenti di presentazione piuttosto che di continuous integration quindi tutta una serie di aspetti che in un contesto enterprise quindi dove ci siano delle strutture information technology mature possono essere molto interessanti e il cui costo a quel punto può diventare assolutamente marginale per un'azienda di grosse dimensioni rispetto al vantaggio che possono offrirvi uno strumento che a noi piace moltissimo anche dal punto di vista diciamo di come si colloca tra prezzo e offerta e strumento e speedcurve speedcurve è un'azienda australiana che ha realizzato una dashboard di lettura dei dati forniti da web page test che in realtà vedremo al fondo diciamo come strumento che permette di leggere in maniera assolutamente semplice senza mancare di profondità per chi vuole andarsi a spaccare il cappello diciamo sul singolo dato i dati raccolti dalla sonda di analisi il grande vantaggio di speedcurve è che mette in pagina in un formato gradevole e facilmente utilizzabile anche da un utente non tecnico delle informazioni che quando sono asciugate a delle componenti come il tempo di avvio del rendering di pagina piuttosto che lo speed index il visual complete il numero di risorse scaricate complessivamente sono degli indicatori anche qui che siccome tra l'altro sono storicizzati quindi avete un grafico che va per giorno o ora potete chiaramente decidere la frequenza con cui viene fatto il monitoraggio restituisce ad un interlocutore anche non tecnico una visione dell'andamento del sito e questo ripeto di nuovo è molto importante per non lavorare esclusivamente in un ambito tecnico e non invece allargare la platea degli interlocutori anche dei referenti anche diciamo dei committenti delle azioni di miglioramento delle performance a degli interlocutori che di tecnologia non sanno assolutamente nulla banalmente potrebbero anche essere loro a pagarvi la consulenza cioè in un contesto consolidato in azienda può essere il business che per i numeri che abbiamo visto prima quindi per il tasso di conversione degli utenti il numero di vendite mancate se il sito è lento per qualsiasi diciamo di quelli snippet informativi che abbiamo estratto dai white paper piuttosto che da WP o Staz o da qualsiasi altro talk o conferenza a cui abbiamo partecipato si convincono che lavorare sulle performance è un beneficio per il loro prodotto e non è detto che in questo caso quindi si crei come dire uno schema un po' anomalo per cui un referente di tipo tecnico è commissionato da una componente marketing o business invece che da una componente IT che non è così anomalo dal punto di vista per esempio di un'agenzia di UX o di un'agenzia di comunicazione che di solito ha come referente comunicazione e marketing e molto meno information technology un altro strumento meraviglioso che abbiamo tutti a disposizione gratuitamente è il browser di questi è quello più difficile da utilizzare da leggere anche se avete tempo di video istruttivi di webinar di slide deck da consultare per imparare a leggere la timeline e l'inspector in particolare di Chrome ma anche Firefox e Safari hanno un ottimo livello oggi tutti gli altri browser basati chiaramente su WebKit e Blink ricalcano l'inspector di Chrome quindi Vivaldi piuttosto che Opera nelle ultime release l'inspector di Chrome tra l'altro è la controparte di tutti i tool che abbiamo visto in precedenza nel senso che ognuno di questi una volta raccolta l'analisi da cui vi estrae quelle evidenze numeriche velocità di caricamento piuttosto che numero di risorse e così via esporta un pacchetto di dati che voi potete caricare senza dover aprire nessuna pagina all'interno della timeline ed esplorare in maniera puntuale l'ultimo strumento è WebPageTest che in realtà è il primo nel senso che è quello su cui si basano quasi tutte le implementazioni che abbiamo visto fino adesso quindi se PageSpeed Insight era Python qua diciamo dal punto di vista del voto che prendiamo con WebPageTest abbiamo un insegnante completamente diverso oppure diciamo così il professore che avremmo sempre voluto WebPageTest è gratuito ha un'infrastruttura globale nel senso che è basato come dire su una disponibilità volontaria di server in giro per il mondo su cui si può installare come macchina virtuale preconfezionata su qualsiasi diciamo ambiente a base Unix e anche Windows in alcune installazioni dispone di device reali e non solo simulati per i test di caricamento quindi ci sono diciamo dei telefoni e dei tablet attaccati con diciamo la connessione USB adb e i test vengono effettuati direttamente sui device raccoglie il metodo e il modello diciamo di analisi è quello del test ripetuto quindi viene fatto un test dalle 3 alle 5 volte la media pesata è quella che viene utilizzata per diciamo l'evidenza del caso più significativo e voi avete una marea di indicazioni su quelli che sono gli elementi diciamo di performance di una pagina in questo caso vedete là in alto un punteggio anche qua abbastanza sintetico in realtà espresso con i voti all'americana quindi da A a F su una serie di parametri l'unico su cui questo è il nostro sito abbiamo preso una X è perché non usiamo una CDN quindi in questo caso non ci siamo meritati un voto tutti questi strumenti nel senso qualunque di questi strumenti come vi dicevo vanno usati e vanno usati da subito anche se dovessero darci il punteggio peggiore in assoluto quindi uno 0 secco su PageSpeed Insight piuttosto che 12 secondi di caricamento su WebPageTest o qualsiasi altra metrica decidiamo di prendere in considerazione fregatevene dei numeri che vi danno all'inizio quando cominciate a lavorare sulle performance perché in realtà qualsiasi cosa facciate da lì in poi è un miglioramento ma se voi non vi segnate da dove partite non potrete mai andare a rivendicare nessun successo con nessuno perché ogni volta che voi avrete fatto un'azione tecnica che avrà portato un miglioramento per dimostrarlo dovrete avere un numero che prima era peggiore che adesso è migliorato l'altra cosa che potete fare con qualunque di questi strumenti è misurare la concorrenza quindi non solo testare il vostro sito ma testare anche quello dei vostri concorrenti e magari confrontare anche soltanto certe metriche per decidere su cosa andare a intervenire perché se il tempo di caricamento complessivo è drasticamente diverso tra il mio sito e quello della mia concorrenza e quindi so che migliorare quel parametro lì è un esercizio impegnativo perché coinvolge tutta una serie di attività posso dedicarmi magari a qualcosa su cui cominciare ad avere un miglioramento progressivo l'altra cosa da fare quando si comincia è raccontare i successi anche qua non importa se sono grandi o piccoli ma raccontarli per convincere le persone che ogni azione che richiede un interesse perché chiunque lavori nel mondo web ha le sue abitudini ha le sue comodità da quello che usa vim perché non ha voglia di usare un editor grafico a quello che ha tutti i suoi script sulla command line di automatizzazione delle cose a quello che ha gli snippet di codice piuttosto che le librerie quello che carica dentro bootstrap qualsiasi cosa debba fare perché tanto con bootstrap mi trovo bene queste cose chiaramente c'è anche la battuta di spirito però importare una cultura delle performance vuol dire costringere le persone a riflettere su quello che fanno e quindi a volte porsi il problema di farlo in un modo leggermente diverso andare a capire come devono farlo per ottenere un risultato migliore vuol dire uscire dalla comfort zone qualcuno è particolarmente predisposto qualcuno va incoraggiato il modo migliore per incoraggiare le persone è dimostrare che i risultati si raggiungono e che i successi premiano chi li porta a casa quindi anche quelli piccoli senza aspettare di aver raggiunto la perfezione e per darvi un esempio ho trovato e questa è una notizia di 20 giorni fa neanche del 4 di aprile questo è il sito di un di un consulente del team della BBC che ha rinnovato l'home page del sito in chiave di ottimizzazione delle performance vi metto in evidenza questo paragrafo era aprile 2016 adesso un anno dopo siamo pronti a cominciare un rilascio per fasi della nuova home page quindi dopo un anno fanno un rilascio per fasi quindi non a tutti a piccole porzioni di utenza facciamo vedere e utilizzare la nuova home page ottimizzata cominciando con una piccola percentuale di utenti in Inghilterra e chiaramente poi crescendo piano piano nelle settimane successive questa cosa mi ha fatto riflettere nel senso questo è un lavoro di un anno e dopo un anno non si riesce nel senso che ovviamente si è ritenuto opportuno cominciare a fare un rilascio graduale per mettere a disposizione dell'utenza ovviamente anche per verificare se ci sono dei bug che escono chiaramente quando si va su larga scale non soltanto sulle batterie di test che uno può avere all'interno diciamo del proprio piano di testing ma questo è un lavoro di un anno se si fosse riuscito a fare un rilascio per fasi progressivo ma di ogni piccolo intervento migliorativo probabilmente qua c'è anche un'azione di redesign o comunque diciamo così di ristrutturazione massiva dell'home page del sito se stiamo lavorando a parità diciamo così di esperienza utente è sbagliato tra virgolette aspettare così tanto per rilasciare perché abbiamo completato tutto il nostro processo è molto meglio riuscire a rilasciare qualsiasi cosa se sia migliorata appena possibile perché comunque un vantaggio ce lo restituisce quindi in questo caso diciamo sul modello iterativo il messaggio che volevo darvi attraverso il film che abbiamo visto all'inizio è misurate cominciate subito e ripetete questo processo in continuazione adesso passiamo alle prime donne cioè gli attori vediamo se questa volta parte del video che piacere vederti siorellino sei un loridissimo porco io sono rimasta casta e pura per te sono rimasta davanti all'antare intrepida e virginale attesa di te con 350 invitati tra parenti e amici mio zio aveva ingaggiato i migliori cuochi rumeni dell'Illinois per procurarsi le sette limusine per il corteo pronunziale mio padre ha versato una tangente al racket delle pompe funebri e quindi per me per mia madre per mia nonna mio padre mio zio e per l'onore della famiglia ora devo uccidere te e tuo fratello ti prego non ucciderci ti prego ti prego non ucciderci lo sai che ti amo baby non ti volevo lasciare non è stata colpa mia che bugiardo schifoso credi di riuscire a cavartela così dopo avermi tradito non ti ho tradito dico sul serio ero rimasto senza benzina avevo una gomma a terra non avevo i soldi per prendere il taxi la titoria non mi aveva portato il tight c'era il funerale di mia madre e ancora l'altra la casa c'è stato un terremoto una tremenda inondazione le cavallette non è stata colpa mia la giuro senti io oh Jack Jack takes home andiamo allora ve l'ho fatto vedere tutto uno perché c'era Carrie Fisher che è mancata quest'anno due perché è una scena che non si può interrompere e vedrete che anche questa scena qua in realtà ha un significato nel percorso che stiamo facendo gli attori chi sono gli attori in azienda allora sono prima di tutto sono delle prime donne esattamente come gli attori nei film sono permalosi come le fidanzate dei film come Carrie Fisher in Blues Brothers sono il business ne abbiamo accennato prima il business è di solito in un'azienda di medio grandi dimensioni il business è il committente diciamo dello sviluppo quindi è chi decide che cosa deve essere fatto da un punto di vista di sviluppo dei siti non da un punto di vista tecnico chiaramente ma da un punto di vista di frequenza di aggiornamento redesign nuovi prodotti nuove funzionalità del sito il business il business chiede qualunque cosa chiede la UX chiede l'esperienza utente migliore possibile e vi chiede di mettere 17 fornitori di banner quindi contenuti raccomandati il banner l'overlay il video lo sticky che si ferma con il video mentre scrollate la pagina i pulsanti di sharing ovunque per la parte social cioè il business è quello che fa qualunque tipo di richiesta cioè il bambino goloso che va in pasticceria poi c'è l'IT l'IT che sono i nostri amici l'IT sono quelli di solito per cui noi lavoriamo la parte di information technology sull'IT si potrebbero scrivere migliaia di libri anzi credo che li abbiano scritti nel senso che ci sono talenti straordinari nei repartiti delle aziende spesso un po' abbandonati quindi gente un po' disincantata gente che sa fare molto bene il proprio lavoro che magari lo fa con la mano sinistra perché non ha più voglia di farlo ci sono processi ingessati e spesso non solo per colpa dell'IT magari sono viziati dalle richieste che arrivano dal business senza pianificazione senza particolare anticipo ci sono richieste spossanti deadline impegnative quasi impossibili da raggiungere più ci sono condizioni ambientali quindi ci sono fornitori che cambiano adeguamenti dei sistemi security che ti entra a gamba tese e ti dice no non puoi fare questa cosa perché adesso dobbiamo aggiornare le macchine e cose di questo tipo però l'IT sono i nostri primi alleati quindi noi speriamo di non essere mister robot che fa fallire tutti però con queste persone di solito dobbiamo lavorare sono quelle con cui in prima battuta possiamo costruire un rapporto di fiducia e di compartecipazione diciamo nelle azioni in realtà sono quelle a cui possiamo far fare bella figura cioè mentre facciamo bella figura noi portando a casa i risultati sulle performance possono fare bella figura loro spesso perché se entriamo in un contesto aziendale è un po' fermo da un punto di vista di innovazione il vostro obiettivo deve essere anche quello di fare ripartire un po' loro quindi questa cosa di premiare i successi che dicevo prima serve anche perché poi a questo punto non siete più solo voi a tirare per migliorare le performance del sito piuttosto che per adottare un approccio diverso nello sviluppo e poi ci sono le operations le operations che di solito sembrano annegate nascoste nell'IT ma non lo sono le operations sono la gente che sta nascosta perché questi non si fanno vedere sono quelli che amano stare in sala server nascosti che hanno diciamo l'accesso root alle macchine sono quelli che gestiscono il load balancing la sicurezza il carico dei server l'https quindi i certificati e così via e anche qui spesso sono uno specchio dell'IT cioè gente molto molto brava grandi talenti anche competente forse in alcuni casi a noi è capitato di vedere le persone di straordinario talento esprimersi fuori dall'azienda per cui lavorano esprimere quel talento fuori e non metterlo a disposizione dell'azienda perché in azienda ripeto sono un po' magari schiacciati in delle posizioni scomode o comunque le iniziative che hanno non vengono prese in considerazione anche qui per voi sono sia un po' una minaccia nel senso che ovviamente quando uno arriva da fuori nessuno sa chi è arriva dicendo tu devi fare questo tu devi fare quello non viene visto particolarmente bene ma sono anche degli alleati perché magari con un approccio che poteva essere diciamo di tipo diverso nel senso mirato alla propria convenienza personale su una componente di sicurezza o di infrastruttura server ciascuno di loro magari in passato ha provato a fare qualcosa che andava in direzione delle performance ma non era letto in maniera globale se noi prendiamo IT operations e business come ve li abbiamo descritti in pratica abbiamo la tempesta perfetta nel senso che può andare tutto male e di solito nelle aziende è esattamente quello che succede cioè tutti lavorano male cioè business fa tutte le richieste possibili e poi si ritrova a dover negoziare su quali portare a casa perché l'IT è saturo di richieste e non riesce neanche a mantenere come dire un livello di erogazione di servizio che è quello che vorrebbe tenere e si ritrova schiacciato operations non collabora perché di solito ha un'infrastruttura da tenere in piedi e fanno muro veramente ma perché se va giù load balancer va giù tutto il sito quindi questi fanno muro a prescindere perché dicono io voglio mettermi in una condizione di sicurezza quindi per tornare a quello che abbiamo visto all'inizio quindi a Belushi che tira fuori le cavallette puntare il dito non serve a niente cioè accusare qualcuno di non collaborare o difendere un interesse di parte non serve e non porta a casa nessun risultato e bisogna stare attenti a capire quando magari il tema delle performance è una scusa o diventa una scusa per dei regolamenti di conti un po' all'interno dell'azienda quindi magari il business che addossa l'IT delle responsabilità che non sono sue perché se non si è mai parlato di performance è inutile che uno si svegli e venga a dirci e però il sito è lento ok è lento facciamo qualcosa facciamo qualcosa vuol dire lavoriamo insieme per risolvere il problema invece il tuo sito quello che hai fatto tu è lento non è un atteggiamento che paga purtroppo in azienda succede nel senso che sono fatte così quindi quello che dobbiamo fare noi per evitare di finire sotto l'onda è fare squadra e voi direte e va bene è certo che dobbiamo fare squadra infatti perché noi siamo Danny Ocean ma se siamo Danny Ocean e non ci portiamo dietro gli altri dieci il bellaggio non lo scassiniamo e gli altri dieci non sono dieci sfigati raccolti per strada ma sono dieci professionisti di talento motivati ciascuno che fa un pezzo della missione se non siamo Danny Ocean possiamo decidere di essere Tony D'Amato cioè parlare perché magari Danny Ocean se li va a cercare ma Tony D'Amato si ritrova alla squadra che c'ha ciao Silvano e con il suo discorso riesce a portarli alla vittoria se c'è pressione in azienda perché si è arrivati tardi a parlare di performance più pressione c'è più i risultati si aspettano a breve termine e questo normalmente è come dire l'opposto di quello che ragionevolmente uno dovrebbe guardare cioè se io non ho mai parlato di performance il lavoro che ho da fare è parecchio quindi va bene portare dei risultati a breve termine su delle piccole componenti ma mi aspetto un grosso lavoro avere dei grossi risultati a breve termine non è possibile ma è la classica richiesta del business cioè è la solita del farmi la UX a prova di utente e contemporaneamente mettiti 17 fornitori di ADV e o componenti di terze parti quello che noi non dobbiamo assolutamente essere è wolf noi non dobbiamo essere wolf cioè sì noi dobbiamo risolvere i problemi ma noi non siamo un uomo che risolve i problemi e non dobbiamo neanche essere robocop perché non dobbiamo andare in azienda a fare i poliziotti non fare questo non fare quello non fare quello fai quello che dico io io sono la legge non funziona quindi dobbiamo cercare il più possibile di coinvolgere tutti tutti vuol dire tutte le parti dell'IT che abbiamo visto sviluppatori DBA back-end front-end l'IT operations a vario titolo e così via e il business nel misurare le richieste nel programmarle su una scala temporale che ci consenta di raggiungere i risultati che diciamo ragionevolmente speriamo di ottenere separando le responsabilità quindi non facendo un gran mischione perché facciamo una squadra tutti insieme però poi non è più la responsabilità di nessuno portare a casa il risultato o diciamo di quello che si è intestato il team ognuno deve avere un compito preciso e i risultati vanno premiati perché vanno premiati perché poi ciascuna di queste persone diciamo così un po' più leader tra virgolette all'interno magari del suo gruppo di pari vi scarica di una quota parte di lavoro e di onere di controllo di coinvolgimento e così via perché se ne fa carico improprio perché perché vede che il proprio sforzo viene premiato quindi no finger pointing ma nemmeno la scusa delle cavallette prossimo Oscar candidatura per migliore coreografia ragazzi grazie mille voi non ci crederete ma questa volta dico la verità allora migliore coreografia la Rube Goldberg machine ovviamente è una delle citazioni migliori per dirvi che più un'organizzazione è complessa più tempo serve per per raggiungere dei risultati perché più è grande più è complessa quindi che cosa vuol dire scrivere o comunque diciamo così gestire un piano e un orientamento alle performance in azienda vuol dire occuparsi di una marea di attività vuol dire fare pianificazione quindi mettere in ordine le attività capire le dipendenze capire quali reparti sono coinvolti anticipare il loro coinvolgimento anche nelle fasi di analisi soprattutto perché magari portano dei contributi utili valutare quali sono i vincoli strutturali vincoli strutturali sono i sistemi sui server di solito non sono l'ultima release perché aggiornare il server che magari sono dieci i server che erogano in un sito di un'azienda aggiornare il sistema operativo dei server vuol dire fare test di non regressione ricertificare tutte le applicazioni tutti i servizi che ci girano sopra quindi non è una roba che viene fatta a cuore leggero tant'è che è su questo motivo che campano le aziende tipo Red Hat perché continuano a rilasciare le patch di sicurezza per versioni di sistemi vecchi di magari 5, 6, 7 anni c'è il testing abbiamo appena adesso ha detto quindi testing vuol dire verificare che una nuova implementazione non abbia difetti e che tutto quello che funzionava prima non abbia difetti e a questo proposito avete in azienda una procedura di controllo delle regressioni un test di controllo delle regressioni perché se non c'è torniamo di nuovo all'inizio alla pianificazione non possiamo fare una cosa perché ci manca un pezzo e se questa cosa vi sembra un gioco dell'oca è perché lo è e se vi piace il gioco dell'oca ve ne ha portato qualcuno da portare a casa poi c'è il discorso degli ambienti noi siamo abituati di solito facciamo il nostro sito lo rilasciamo sul nostro server di riferimento è finito lì abbiamo il sito in sviluppo sulla nostra macchina e il sito erogato sul server su cui abbiamo l'hosting in contesti grandi cioè complessi abbiamo infrastrutture di erogazione molto diversificate abbiamo degli ambienti di collaudo che non sempre rispecchino gli ambienti di produzione a volte abbiamo collaudo preproduzione produzione questo significa che magari in preproduzione non abbiamo ancora la cdn ma in produzione ce l'abbiamo però in preproduzione abbiamo tutte le regole degli apaci uguali a quelle di produzione e sono scenari abbastanza complessi nel senso da brivido intendo cioè voi avete una cosa che funziona in un ambiente e continuate a tenere le ditte incrociate che continuano a funzionare anche negli ambienti successivi cioè dovete testare che sostanzialmente questa cosa sia vera c'è la replica sull'infrastruttura se i server sono dieci la modifica l'intervento va portato su tutti i dieci server e spesso questo è uno dei classici casi diciamo di application maintenance che si verifica in azienda uno dei difetti normali sui siti che girano su infrastrutture complesse è che non tutti i server sono allineati perché è caduto un nodo magari è caduto il nodo del CMS il che significa che il sito continua a rispondere l'altro utente il load balancer continua a dirottare il traffico sopra ma non c'è il contenuto aggiornato perché lì non è arrivato ci sono gli strati di caching a vario titolo quindi ci possono essere strati di caching applicativo strati di caching di erogazione quindi lato hosting tipo varnish o soluzioni di questo tipo strati di caching sulle cdn questa cosa non è questa immagine non è aggiornata questa immagine pesa 170k ma io l'ho caricata e pesa 96 come mai? da qualche parte non è stata replicata correttamente non ha attraversato lo strato di cache invalidando lo strato di cache arrivando fino alla fine nella versione aggiornata poi c'è l'impatto sui sistemi editoriali facciamo delle modifiche all'infrastruttura dobbiamo valutare che cosa succede dal punto di vista delle procedure di pubblicazione quindi devo ripubblicare tutto il sito? sono migliaia e migliaia di pagine perché ho sei anni di storia di pubblicazione? magari con un blog no ma con un sito come un sito di news sì ripubblicare un sito che ha sei anni di pagine e di url è un'operazione per cui questi vanno in vacanza una settimana dopo una settimana torna il sito è stato ripubblicato e per una settimana però non ci sono state news quindi non è una roba che si fa a cuore leggero cioè va fatta per gradi il che significa che dobbiamo pianificare e preventivare che avremo metà sito aggiornato e metà sito no poi ci sono le terze parti quindi noi facciamo tutto il nostro lavoro bellissimo tutto posto testato google page speeding site che ci dà 96 contenti come una pasqua il giorno dopo è 80 cosa è successo a una terza parte di cui noi abbiamo un'inclusione javascript sul codice non minifica più ha disabilitato gzip siamo passati in htps gzip è disabilitato per breach che è una vulnerabilità non ci sono protocolli alternativi tipo brothel o zoffli e quindi abbiamo un pezzo che ci riduce il punteggio quindi queste cose bisogna mapparle conoscerle e anche lì il team non sono solo le persone all'interno dell'azienda ma spesso sono anche fornitori esterni che bisogna coinvolgere e in qualche modo sensibilizzare sull'azione che stiamo facendo cominciare a far passare un concetto per cui magari le vostre immagini prima le testate su questo sito in cui vi dice se sono compresse correttamente non c'è un sito che dice un fornitore a una concessionaria di banner se il banner è compresso correttamente magari quello diventa il primo compito facciamo una piccola infrastruttura diciamo come certificazione dei banner che accogliamo sui nostri siti per la nostra concessionaria così prima validiamo quindi un utente che carica il bannerino un utente interno della nostra azienda che lavora per la concessionaria pubblicità e che deve pubblicare un banner prima lo carica lì verifica che la compressione sia corretta se si va avanti se no lo rimanda indietro e bisogna allineare tutti i team quindi qualsiasi cosa succede bisogna che tutti siano a conoscenza del fatto che hai cambiato qualche cosa quindi per ritornare alla scena che abbiamo visto all'inizio per cui io sono un figlio degli anni 80 avete visto la scelta dei film naturalmente però dai Goonies la Rube Goldberg Machine qua l'Oscar se lo prende il tempo cioè ci vuole del tempo bisogna pensare che ci vuole del tempo per fare le cose il che non significa però darsi degli obiettivi come dire più di piccola portata ecco quinto Oscar cosa vi serve a parte un miracolo armi tante armi come noi anche noi avremo successo allora cosa sono le armi sono i tool gli strumenti che ci prendiamo per portarci a casa i risultati allora vi faccio un esempio questa è una esperienza diretta ottimizzazione delle immagini era uno di quei punti che vi ho citato all'inizio una roba relativamente semplice cioè diminuiamo il peso delle immagini a parità di qualità visiva sembra una roba semplice quindi uno dice cosa fai vabbè prendi un compressore immagini butti dentro le immagini entro in un modo escono nell'altro fai l'upload ftp e risolto i tuoi problemi su un'infrastruttura per cui ci sono tre server di frontend su Milano tre server di frontend su Roma tre server che fanno la parte di pubblicazione dei contenuti editoriali e tre server che fanno sempre su Milano e su Roma più una macchina centralizzata che coordina questi sei server editoriali sotto Adobe Experience Manager che è un CMS aziendale di grosso enterprise il caricamento delle immagini viene fatto da tutti gli editor gli editor caricano le immagini senza sapere sostanzialmente quello che fanno perché il loro mandato è scrivi la notizia carica le immagini pubblica quindi questa cosa deve funzionare deve funzionare sempre e non avere come dire buchi da un punto di vista di processo poi ovviamente c'è la parte di pagina quindi come vengono erogati i contenuti quindi per ottimizzare le immagini il primo ragionamento e approccio che noi abbiamo fatto è sulla scelta dei formati quindi JPEG va bene lo diamo per scontato PNG sì ci sono ci sono delle PNG perché a volte dei grafici producono delle immagini per esempio di sintesi che ne so risultati dei gironi della Champions quindi ci sono il classico grafo in cui abbiamo l'andamento delle eliminatorie finché si arriva alla finale quello è fatto a livello proprio di grafica e quindi la PNG è un formato ideale come compressione rispetto al JPEG perché il JPEG è fotografico e qui comincia a emergere un minimo di sensibilità che sarebbe richiesta anche da un punto di vista di capire come funzionano i formati immagini per capire quali utilizzare poi ci sono formati di immagini come dire meno tradizionali tipo SVG per tutte le componenti vettoriali quindi dove non abbiamo dei punti all'interno delle immagini ma abbiamo delle istruzioni per disegnarli questo vale per esempio per i loghi ma può valere anche per marchi grafici piuttosto che altri diciamo tratti disegni al tratto poi ci sono le onnipresenti GIF che sono tornate di moda o GIF cioè piccole animazioni perché sono tornate di moda perché funzionano molto bene nella condivisione social quindi come meme come appunto pilloline da condivisione funzionano molto bene e paradossalmente pur essendo un formato radicalmente inefficiente però è molto comodo per poter distribuire questi contenuti per cui è facile che anzi a noi è successo che ci venisse chiesto dobbiamo poter pubblicare delle GIF il problema è confinare le GIF per questo uso quindi non faccio pubblicare a un editor come immagine di una news una GIF deve darmi una JPEG o una PNG se è appunto il grafico del girone piuttosto che una roba simile però gli devo mettere a disposizione la possibilità di caricare la GIF per la condivisione social piuttosto che per altri fini poi ci sono delle componenti di workflow cosa vuol dire l'immagine può essere in formato verticale o in formato orizzontale quindi io la devo trattare in modo diverso a seconda dei casi devo poter riconoscere se mi arriva una PNG come formato diciamo di caricamento lato editoriale o se mi arriva una JPEG o se mi arriva un formato non riconosciuto ed eventualmente convertirlo devo anche pormi il problema che se mi caricano una PNG che ha un contenuto fotografico io devo essere in qualche modo in grado di riconoscerlo e trasformarlo in una JPEG quindi io devo avere un workflow che mi dice se è una JPEG esce una JPEG se è una PNG esce una PNG a meno che la PNG non sia in realtà una JPEG come faccio a saperlo dipende nel senso magari devo inserire un tool che mi fa un'analisi dell'immagine magari la comprimo in PNG e mi do una soglia di riferimento in termini di dimensione del file quindi un file di tipo grafico dovrebbe comprimere abbastanza bene per cui mi aspetto che un'immagine con una certa dimensione abbia un certo peso se quel peso lì è molto maggiore vuol dire che probabilmente è un'immagine fotografica che quindi non comprime altrettanto bene e di nuovo queste cose le posso intuire perché ho capito come funziona il formato di compressione PNG uno degli strumenti quindi una delle armi di Matrix che noi ci siamo portati in questo caso è ImageMagic che non è recentissimo come strumento però è ancora molto 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 versatile quindi è un editor di immagini da command line quindi completamente automatizzabile consente di ridimensionare le immagini convertire da un formato all'altro aggiungere degli overlay grafici quindi per esempio se vi chiedono di mettere il logo della testata giornalistica in basso a destra questo per esempio è uno strumento che automatizza questo tipo di processo ha il grande vantaggio tra l'altro di emettere siccome converte da qualsiasi tipo di file a qualsiasi tipo di file il risultato può essere anche un file non compresso quindi io entro con un file di qualsiasi tipo che mi viene caricato probabilmente ad alta risoluzione perché l'immagine diciamo di riferimento esco non compresso in modo da poter comprimere al meglio al passo successivo invece che utilizzare ImageMagic che ha delle routine di compressione che non sono particolarmente efficienti per esempio usando MozJPEG MozJPEG è un'interpretazione libera interpretazione come si direbbe dell'algoritmo JPEG scritta da Mozilla arrivata dalla release 3 che ottimizza in particolare per il web quindi dice se un JPEG deve andare sul web tutta una serie di informazioni e componenti possono essere lasciate eliminate in più se vado sul web posso ottimizzare il diciamo il calcolo di come comprimo l'immagine cercando di ridurne le dimensioni MozJPEG dà un vantaggio di circa il 20% rispetto a altri strumenti di compressione o diciamo di salvataggio in JPEG bello mi è arrivato Google ha detto ah io forse so fare di meglio e ha tirato fuori Guetzli che è sempre JPEG quindi è un motore di compressione JPEG diverso Guetzli ha lo svantaggio di essere lentissimo cioè se MozJPEG ci mette 196 millisecondi a comprimere un'immagine Guetzli ci mette 8 secondi quindi voi immaginate che se io dico abbiamo il 20% in più rispetto al 20% che già ottenevamo prima da MozJPEG quindi diciamo combinato abbiamo circa come dire un 32% di vantaggio rispetto all'immagine compressa da ImageMagic però qua ci metto 8 secondi in realtà io non l'ho neanche proposto quindi la mia valutazione è stata questo bellissimo però nelle condizioni in cui io vado a operare è insostenibile perché vuol dire che per far uscire una news e quindi io devo ottenere l'editor che non ha la conferma che la sua immagine è stata caricata correttamente perché ci mette 8 secondi per ogni taglio quindi con le immagini responsive per cui magari devo emettere 3-4 formati immagine di dimensioni diverse per coprirmi i tagli retina mobile tablet e così via ci metto 4x8 32 32 secondi non va bene per le PNG abbiamo adottato PNG Crash PNG Crash è un compressore del formato PNG che parte da una PNG e restituisce una PNG fatta meglio PNG Crash lavora sull'ottimizzazione dell'ordine con cui sono scritti i pezzi della PNG per comprimere meglio poi ci sono formati che sono supportati solo da alcuni browser soprattutto di versioni recenti tipo WebP WebP è molto molto efficiente più efficiente del PNG però ha un supporto limitato anche qua si può lavorare a livello poi di markup frontend quindi diciamo di pagina di codice CSS e HTML per supportare il formato solo per chi lo riconosce e può essere una valida alternativa impacchettato tutta questa soluzione se l'avete fatto noi l'abbiamo fatto perché abbiamo valutato che alternative on demand non erano praticabili soprattutto perché i volumi diciamo di generazione immagini che genera il sito per cui abbiamo lavorato erano tali da generare una componente di prezzo insostenibile mentre c'era già tutta l'infrastruttura che lo poteva fare in casa e quindi abbiamo adottato una soluzione basata sulle componenti che vi abbiamo descritto prima però ci sono quindi se magari le vostre esigenze sono diverse potete dire io non voglio fare nulla mi affido a qualcuno che sa fare questo mestiere bene e che perché ha un prodotto innova sul suo prodotto costantemente quindi oggi non c'è webp domani c'è oggi non c'è guetzli domani c'è domani c'è una nuova tecnologia di compressione immagini mi aspetto che il mio fornitore di compressione immagini ce l'abbia a disposizione c'è kraken kraken tra l'altro che ha un uso ha un accesso gratuito quindi funziona così sostanzialmente se avete un sito quando pubblicate una news sul sito qualunque tipo di contenuto che abbia delle immagini fate una chiamata kraken e gli dite qui c'è un'immagine nuova per favore dammela aggiornare cioè calcolamela rigeneramela in formato compresso però potete anche usarla come strumento diciamo vostro di compressione quindi andare sul sito di kraken caricare un'immagine lui ve la comprime e vi permette di scaricarla e voi ve la caricate sul vostro sito a manina se è un'operazione diciamo così una tantum che potete fare manualmente il servizio è gratuito cloudinary ha un'infrastruttura molto simile quindi il criterio è lo stesso voi caricate le immagini o via chiamata server dite alle api di cloudinary o di kraken che avete un'immagine nuova e loro ve la la convertono oppure ve la servono addirittura perché cloudinary ha anche una sua cdn e quindi voi potete fare le richieste delle immagini direttamente a cloudinary anche con dei parametri per ogni tipo di immagine sulle dimensioni che volete quindi voi la caricate una volta sola al lato vostro la mandate a cloudinary e dal markup di pagina la richiamate una volta a 300 pixel di larghezza una volta a 450 una volta a 1200 e lui ve le scala automaticamente stessa cosa fa a resourceit che a dispetto del nome non è una realtà italiana o Akamai naturalmente Akamai che ha nello strumento diciamo di ottimizzazione delle immagini un tool particolarmente interessante anche questo l'abbiamo testato è un tool si chiama SSIM ed è praticamente un algoritmo che calcola la differenza tra un'immagine e un'altra quindi io prendo un'immagine la salvo con un fattore di compressione per esempio classico jpeg 80 poi la stessa immagine la salvo con fattore di compressione jpeg 60 do entrambe le immagini in pasto a un tool che adotta questo algoritmo di differenza strutturale di immagine e questo algoritmo le confronta e mi restituisce un numero questo numero è un numero che va da 0 a 1 se non sbaglio e quanto più vicino a 1 tanto più le immagini sono diverse e riconoscibili tanto più è distante da 1 quindi 0,008 0,009 e così via c'è una soglia tra l'altro che è definita l'algoritmo per cui l'occhio umano non è in grado di riconoscerlo quindi sostanzialmente adesso sappiamo dire a un computer dimmi quando io non mi accorgo più della differenza tra due immagini ma magari una pesa 35k e meno dell'altra quindi una cosa che per esempio potete provare a fare noi abbiamo provato a farla e di nuovo c'era un problema di tempi computazionali per cui non abbiamo praticato questa soluzione era prendiamo un'immagine la salviamo con un fattore di compressione standard esempio jpeg 80 dopodiché scendiamo e la facciamo a 78 76 74 e ogni volta che la generiamo andiamo a confrontarla con quella ad 80 e calcoliamo l'indice di differenza strutturale se l'indice di differenza strutturale è sotto la soglia della differenza percepita dall'occhio umano andiamo avanti se no ci fermiamo questo poteva voler dire che noi con un'infrastruttura basata su strumenti di pubblico dominio quindi gratuiti avremmo potuto avere image magic poi il nostro mods jpeg il tool di analisi delle differenze strutturali e un ciclo che lo rialimentava e avere delle immagini che a volte uscivano con compressione 80 a volte con compressione 74 a volte con compressione 66 indistinguibili da quella da 80 adesso per esempio continuiamo ad avere il fattore di compressione ad 80 perché questo calcolo e diciamo generazione ripetuta dell'immagine aveva un impatto sui tempi complessivi di generazione e pubblicazione di una news che è stato ritenuto non idoneo abbiamo già accenato alla parte di markup css ma per esempio anche su una cosa banale come l'ottimizzazione delle dimensioni dell'immagine ci siamo posti il problema cioè come facciamo a caricarle queste immagini mettiamo un un placeholder cioè un'immagine finta fissa sempre uguale magari caricata nel senso già annegata all'interno del markup con un data URI per avere un'immagine che viene immediatamente visualizzata in modo da non dover aspettare che venga scaricata dal server quando facevamo la considerazione all'inizio sul fatto che il 4G è molto veloce ma lento dal punto di vista della latenza questo è uno dei casi in cui questa è una considerazione da fare cioè se mi arriva l'HTML e c'è già il tappo immagine che mi fa vedere che lì c'è un'immagine magari col loghetto schizzato diciamo dell'editore io vedo subito qualcosa e la mia impressione sul fatto che la pagina sia già più completa di quando mi arriva l'immagine è confermata però in quel caso cioè nel caso di una connessione per esempio 4G in quel caso io avrei risparmiato rispetto a chiederla al server perché la richiesta e l'erogazione al lato server anche solo di un k mi costava x millisecondi di chiamata e risposta perché sono su una rete lenta ci sono i client ins un'altra cosa che uno si può cioè può valutare da un punto di vista di tecnologia da adottare quindi dice ok adesso magari invece che scrivere un pacchetto di 15 righe di markup responsive per gestione delle immagini uso le infrastrutture lato server per mandare direttamente quella giusta cioè dico al browser tu dimmi quanto è grande il tuo viewport e io lato server mi calcolo quanto deve essere grande la tua immagine e te la mando di conseguenza ci sono dei browser che lo supportano dei server chiaramente che supportano questi header aggiuntivi e magari non dovete generare dinamicamente l'immagine ma avete già il vostro plateau di immagini pronte e andate solo a prendervi quella che avrebbe selezionato il browser dal pacchetto responsive però invece che mandare magari appunto 16 18 20 righe di markup gliene mandate una poi abbiamo valutato e adottato tecniche di lazy loading e di caricamento progressivo delle immagini quindi lazy loading vuol dire le immagini le carico mano a mano che sono richieste quindi non carico tutta la pagina con tutte le immagini ma solo quando l'utente comincia a scrollare e l'immagine arriva nella porzione di finestra del browser visibile gli carico l'immagine e a quel punto gli devo dare però qualcosa che gli faccia vedere è che lì c'è un'immagine il discorso che facevamo prima del tappo noi abbiamo scelto una soluzione basata su un concetto di immagine di anteprima bassissima risoluzione quindi noi generiamo lato server un'immagine microscopica di 30-60 pixel di larghezza non si capisce praticamente niente di quello che c'è nell'immagine ma i colori le macchie diciamo di colore sono fedeli la sfocchiamo con dei filtri CSS sulla pagina e la spariamo alle dimensioni in cui la visualizziamo questo fa sì che quando arriva la pagina noi vediamo tutte le foto come se fossero sfocate il fatto che siano sfocate fa sì che non si vedano i pixel diciamo granulare che l'immagine è molto molto piccola quando l'immagine viene incaricata in lazy loading viene sostituita quella sotto i colori e diciamo le macchie tra virgolette sono identiche però a quel punto l'immagine è quella corretta ed è definita di S-Sim vi ho già parlato prima e riassumo come dire tutto questo grande escursus su un punto che dicevamo una roba stupida da fare ridurre le dimensioni delle immagini in un concetto molto semplice cioè il fatto che le ricette ci sono i tool ci sono le armi ci sono gli articoli su come usarli ci sono cioè fuori su internet c'è tutto ma ogni ricetta che voi trovate la dovete cucinare quindi la dovete cucinare con quello che avete in casa col fatto che l'ultima versione di mods jpeg non è compatibile con l'infrastruttura server perché è vecchia di 5 anni e allora magari vi dà un errore processando le immagini e dovete andare a capire perché perché voi non potete installare quella in cui quel baco lì è stato corretto dovete risolverlo magari a monte magari su image magic o così questo tipo tutto questo per dirvi che il vincitore di questo oscar è come dire la vostra scelta delle armi e il vostro arsenale non è semplicemente prendo l'ultimo articolo che ho trovato e copio pedestramente quello che c'è scritto lì sopra perché sicuramente qualcosa diciamo di vostro dovete fare penultimo punto ci stiamo avvicinando signore in meno di un minuto stella solitaria sarà nostro bene prepararsi all'attacco prepararsi all'attacco con taffigatele ora chi è successo dove sono? non lo so signore devono avere un propulsore su qualcosa ma noi cosa abbiamo sulla nostra nave un frullatore no signore bene trovatele prendetele si signore prepararsi alla velocità luce no 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 la velocità luce è troppo lenta la velocità luce è troppo lenta sì dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata velocità smodata signore non siamo mai andati così veloci non so se la nave potrà sostenere qual è il problema colonnello l'unzia della cacarella preparare preparare la nave per la velocità smodata allacciate le citture di sicurezza chiudetele entrate e uscite chiudete tutte le boutique in piano bar abolitele grazie di favore chiudete tutti gli animali nell'ultimo stiamo a me specie di ufficiale da quattro soldi e adesso stia a sentire velocità smodata signore non allaccia la cintura me la sbatto la cintura velocità smodata via allora la velocità smodata quando si comincia a parlare di performance di performance non basta mai nel senso deve essere sempre più veloce che cosa vuol dire vuol dire che un approccio alle performance deve essere esteso a come dire ogni componente del dello sviluppo e del progetto di un di un sito o di un oggetto di comunicazione digitale gran parte di queste considerazioni si applicano anche se lavorate su delle app specie se avete delle componenti erogate tramite webview quindi passando da un concetto di ottimizzazione a un concetto di design delle performance le cose diciamo così che si possono cominciare a portare in azienda che pagano di più da un punto di vista di come facciamo ad andare più veloci sono le style guide quindi un approccio ragionato al markup e ai componenti che ci sono in pagina questo vale sia che voi utilizzate dei modelli tradizionali di impaginazione quindi sostanzialmente abbiate la pagina con tutti i vostri componenti la spalla il modulo delle news la fotogallery piuttosto che sia che anzi ancora di più se lavorate con tecnologie che sono già basate su componenti come React piuttosto che Polymer o altri framework che adottano specificamente un approccio a componenti questo perché paga perché nel momento in cui voi avete un approccio basato su elementi che sono inglobati tipo matrioska a vario livello quando voi dovete cambiare il formato di un'immagine perché adottate delle ottimizzazioni quindi avete la webp il caricamento in lazy load poi avete la componente di anteprima bassa risoluzione la sfocatura e vi siete fatti un pacchetto che gestisce quell'immagine lì quell'immagine lì sta in otto posti diversi del sito ma se voi avete lavorato con questo meccanismo quindi diciamo l'approccio alle style guide cioè l'atomic design e quindi un criterio per cui ogni componente che viene realizzato poi può essere inglobato in uno che lo incarna e lo mette in pagina con un diciamo un ambito più esteso mano a mano crescendo se siete fortunati riuscite a cambiare questa cosa in un punto solo e se non riuscite a cambiarla in un punto solo perché l'integrazione che c'è stata sul CMS piuttosto che qualunque altro tipo di sistema ha perso questo tipo di collegamento però è rimasto dal punto di vista del fatto che quel codice lì era uguale dappertutto e funziona uguale dappertutto perché vi siete cautelati dicendo se io ho lo stesso elemento e lo includo in cinque punti diversi e continua a funzionare come stesso elemento quando poi l'elemento non è più incluso ma è stato copiato perché è stato integrato io però posso dire la puoi sostituire questo pezzo qui con quello che c'era prima e funzionerà perché l'ho testato e l'ho validato che funziona non ho un margine come dire di incertezza come si fa ad andare più veloce avere delle toolchain efficienti cioè riuscire ad importare intanto riuscire a scrivere codice moderno e a non patire il fatto di utilizzare degli strumenti moderni e contemporanei dal punto di vista della gestione del codice quindi avere polifil automatici prefissi automatici sul CSS utilizzare linguaggi moderni che sia S6 su JavaScript che sia SAS o less per la parte CSS piuttosto che qualunque altro tipo di pacchetto di ottimizzazione che possiate avere nella vostra tool di gestione e di build del codice e poi soprattutto perché all'interno della toolchain potete già incorporare dei test di performance quindi gli strumenti che abbiamo visto prima di solito si aspettano che ci sia un sito pubblicato da qualche parte ci sono anche degli strumenti tipo Lighthouse che è un'estensione di Chrome e un pacchetto per Node piuttosto che la possibilità di pubblicare temporaneamente dal proprio computer diciamo aprire una finestra diciamo una connessione tipo aperta come se fosse una VPN verso il vostro computer per avere un indirizzo pubblico che temporaneamente pubblica il vostro sito per poter fare un test di performance quindi invocare web page test o Google page speed insight tanto per dire due che abbiamo citato e farvi restituire un ponteggio con questo potete valutare mentre state sviluppando se siete sulla strada giusto oppure no come si fa ad andare più veloce sempre più veloce facendo mentoring quindi quello che abbiamo detto prima non solo fare squadra per ottenere risultati dal punto di vista di condividere informazioni tecniche e mettere tutti alle loro responsabilità ma anche condividere dal punto di vista del mandato a fare performance quindi se voi fate atomic design da un punto di vista di sviluppo ma chi fa la grafica non segue un criterio diciamo a componenti ed elementi ripetibili è difficile che voi riusciate ad adottarlo dopo perché a monte non è stato pensato quindi magari allinearsi prima nel progetto su un approccio di questo tipo ci consente di andare più veloci dopo performance budget ne ho appena parlato cioè l'idea di poter testare mentre sviluppo con un riferimento rispetto a un a un numero quindi può essere un punteggio può essere un numero in termini di tempo in secondi che io misuro perché mi serve mi serve prima di tutto per sapere se quando mi viene richiesta l'ennesima feature che prima non era prevista ci sta negli obiettivi che ci siamo dati quindi io voglio che il mio sito si carichi entro due secondi però se ho non lo so una componente di infinite reading o un carosello infinito piuttosto che cinque caroselle in pagina buco questo questo limite se lo so mentre sviluppo anche se sono in uno stadio ancora abbastanza diciamo acerbo dello sviluppo posso tornare dalla mia controparte e dire guarda è bellissima questa cosa che è stata pensata però cinque caroselle in pagina fanno sei secondi di caricamento quindi dobbiamo capire se era più importante due secondi o cinque caroselle in pagina non settare un performance budget vuol dire non avere un criterio di responsabilità verso il team e non settarlo vuol dire che se lo settate voi ma non lo condividete con tutti voi fate un lavoro straordinario stupendo e chi viene dopo di voi lo vanifica perché non non ha lo stesso tipo di riferimento perché ci aggiunge le proprie componenti che fanno parte del suo lavoro ma se non aveva un obiettivo di tempo identico al vostro ogni volta aggiunge perché tanto va bene quindi la velocità è tutto come in balle spaziali e la velocità smodata perché tutto è velocità cioè ogni componente di fatto ogni componente ogni elemento ogni piccolo pezzettino contribuisce alla velocità finale siamo arrivati alla fine grazie per la pazienza l'ultimo Oscar va al miglior trailer torniamo indietro nel tempo ma c'è una frase bellissima di questo trailer che chiude veramente il talk accion che chiude Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi siete cercati i dati, siete riusciti a fare partire un progettino pilota, vi siete presi un pezzettino con un risultato da portare a casa, avete gli strumenti di misura, vi siete fatti l'ottimizzazione di un pezzo del sito. Siete arrivati faticosamente alla fine e siete di nuovo all'inizio, nel senso che tutto quello che riuscite a fare oggi domani sarà diverso. Domani sarà diverso, nel senso che domani parliamo di HTTP2, chi c'è stato ai primi incontri ha visto il talk su HTTP2, con tecniche di compressione diverse come Hpack, parliamo di protocolli di compressione sempre lato server come Brotley e Zoffli, parliamo di modularità lato JavaScript quindi con dei caricamenti di singoli pezzi e porzioni di codice con un approccio molto più a componenti di quello che non c'è sia oggi che è abbastanza monolitico. Già oggi si può ottenere con degli strumenti tipo Webpack, Critical CSS che non è, anche questo diciamo da un punto di vista di performance è abbastanza contemporaneo, non è una roba futura ma in contesti di complessità non è banale da portare a casa, piuttosto che approcci invece basati su progressi web app con scheletro di pagina e contenuti caricati e riempiti dinamicamente. Quindi il trailer ci stava sia per come finisce sia per il fatto che in realtà tutto il lavoro è un'anteprima di un altro lavoro, del sequel, del sequel, del sequel, del film che ci sarà. Fare web performance alla fine vuol dire fare web moderno, vuol dire amare il web fatto bene, amare i propri utenti, nel senso cercare di restituire la migliore esperienza possibile, vuol dire sì stare attenti alle ultime tecnologie e studiare ma soprattutto valutare la nostra cassetta degli attrezzi, le nostre armi, quali sono e come usarle al meglio perché è impossibile in realtà sapere tutto di tutto e quindi su certe cose è bene fare delle scelte su cui investire per avere dei risultati certi che si possono raggiungere in tempi ragionevoli. E sostanzialmente fare tutto quello che riusciamo da un punto di vista di competenze, coinvolgimento dei team e delle persone che lavorano con noi sui progetti per portare a casa il risultato per cui la pagina si carica più in fretta e l'utente la vede più velocemente e quindi è più coinvolto da un punto di vista di esperienza. E l'Oscar di questo ultimo premio va a noi e ai nostri utenti, cioè noi per il lavoro che facciamo e loro perché se lo meritano. Grazie a tutti. Ci sono domande? Abbiamo del tempo? Domande? Forza? Nessuno? Tante informazioni? Faccio io? Faccio io, dai. Hai parlato di web test, innanzitutto c'era un talk che ho fatto io, quindi se andate a vedere i video su YouTube c'è un talk molto lungo su come utilizzarlo. Quale metriche tracciare? Perché ce ne sono tante, quindi quale sarebbero quelle? La metrica delle metriche è lo speed index, cioè praticamente il reciproco del tempo di caricamento della pagina rispetto alla porzione visibile. Detta così è una roba un po' complessa, andatevi a vedere il grafico, sostanzialmente vuol dire, e questo numero è un numero spesso in secondi ma non corrisponde a una misura di tempo, corrisponde sostanzialmente più è alto, vuol dire che per completare la visione della porzione di pagina visibile ci si mette più tempo e per più tempo la pagina è maggiormente vuota. Quindi se io ci metto 5 secondi a caricare la mia pagina, cioè la parte che vedo nel browser, e nei primi 4 secondi ho l'80% della pagina piena e nell'ultimo secondo ho il 20% residuo, ho uno speed index basso, quindi migliore di uno che sempre in 5 secondi carica la stessa pagina ma nei primi 4 secondi la pagina è vuota, bianca, e nell'ultimo secondo arriva il 100% di pagina. Il tempo di caricamento è lo stesso ma lo speed index mi dice che nel primo caso io sono riuscito a restituire all'utente un'esperienza di pagina più o meno completa, insomma non completa ma più ricca di quella che ha fatto uno che non c'era quasi niente. Quindi lo speed index secondo me è la prima metrica da tenere presente, è un po' l'equivalente del punteggio di Google, con una metrica più colta e più significativa, però è un numero che può essere confrontato e scambiato tipo figurine. Poi direi che per i colleghi della parte back-end la parte di time to force byte, quindi quanto tempo ci mette il server a rispondere all'inizio, perché lì chi fa front-end, allora noi facciamo front-end, quindi noi su quell'elemento non abbiamo alcun tipo di controllo. Chi fa siti statici sa che è la componente migliore, nel senso faccio un sito statico, lascio che sia il web server a erogare la pagina senza richiedere dietro a database, piuttosto che scripting o infrastrutture di vario tipo, di generarmi una pagina che ha un costo in termini di tempo, soprattutto su livelli di carico. Quindi direi che lo speed index è la prima metrica, il time to force byte per chi fa back-end, occupati di questo, nel senso che questo deve essere il tuo obiettivo principale. E poi direi che dal nostro punto di vista di nuovo, diciamo di chi fa front-end, lo start render è un'altra metrica, basta che mettere in terza posizione però, perché in realtà in qualche modo è già inclusa nella parte di speed index. Sì, sono tutte metriche lato user experience, quelle che ha citato Matteo. Volevo chiederti anche, secondo il tuo punto di vista, se ci puoi dire quale potrebbe essere l'argomento di partenza per iniziare a portare la cultura delle web performance in azienda dove erano prima inesistenti, quindi per esempio a baby steps cominciare a parlare delle immagini, piuttosto che secondo te, quale altro argomento? Allora, dal punto di vista, diciamo, di come far a convincere un utente, questa è una cosa che secondo me è molto comoda da citare, cioè il fatto che abbiamo una solida attenzione ridottissima, no? Cioè quando noi leggiamo una statistica che dice, se la pagina non si carica entro due secondi l'utente se ne va, dici, ma figurati se se ne va, cioè è lì, la sta guardando, cosa fa? È un clicker compulsivo, va in giro, no? No, se ne va vuol dire che se io, soprattutto da mobile, in questa cosa succede soprattutto da mobile, ma se io seguo un link, cioè tipo non so, sono su Facebook o sono su Twitter e c'è un link di una roba, tra l'altro magari è minificato, no? Cioè sono i bitly per cui non so bene cosa sia, ci clicco sopra, pam, mi si apre una pagina. Questa pagina ci mette due secondi a caricarsi, nel frattempo mi arriva una notizia, c'è un nuovo tweet di tizio, piuttosto che mi arriva una notizia di Facebook che mi dice c'hai un like su quella roba lì, Instagram c'è una roba che hai postato, è normale, questa roba è assolutamente normale, che mi arrivi una roba mentre ne sto guardando un'altra. Se io quella roba lì è bianca, leggo la notifica che mi è arrivata, boh, io mi sono dimenticato cosa ho cliccato. Prima di tutto perché non avevo un riferimento, non avevo una url in testa, avevo un bitly slash jp8 lqp, l'ho cliccata perché il contenuto del tweet, piuttosto che lo snippet che avevo visto, mi sembrava una roba interessante, guardo un attimo così poi magari mi segno di leggerla dopo e così via. Quindi è questo il criterio, abbiamo una solida attenzione bassissima perché abbiamo mille interessi, mille cose che ci coinvolgono e che ci arrivano a raffica, soprattutto sul telefono. Questa è la prima cosa. Sulle immagini, le immagini sono, come avete visto in realtà, ho fatto un quarto d'ora di intervento nel talk per parlare solo delle immagini, che è una roba che noi abbiamo fatto in Sky Italia, su un piccolo pezzo, su un pezzo di Sky Italia che adesso viene piano piano esteso a tutta l'infrastruttura, quindi andrà da Sport a TG24 a Meg, a Cinema e così via. Ci ho messo tanto a parlarne perché in realtà è stato un lavoro enorme da un punto di vista di azione, operativo, test e così via, ed è una roba piccolissima, però che, ripeto, dei risultati comunque li porta. Per esempio il PageSpeed Insight comunque ti premia se tu togli tutte le immagini che lui ti riporta, come questa immagine è troppo grande oppure è compressa male. Quindi direi che il tema delle immagini è un tema su cui intanto si può trovare consenso, perché se le immagini sono preparate dai grafici, potete parlare con i grafici e dire guarda che io non te le rovino più, nel senso che mi prendo cura delle tue immagini, però te le ritaglio nel modo giusto, te le comprimo nel modo giusto e così, quindi queste sono piccole tattiche che uno può usare. Se non sono generate dai grafici perché arrivano appunto con dei ritmi forsennati da un punto di vista editoriale, invece premia il fattore tempo e qualità, quindi poter generare tutte le immagini che servono, magari anche di più di quelle che venivano generate prima, perché tanto a parità di spazio disco occupato riesco a farmi due tagli in più, perché risparmio 20% su ogni immagine, quindi posso avere due tagli in più. Questa è una roba, tra virgolette, non banale quando i numeri sono grandi, cioè quando io devo fare storage di immagini, mi devo tenere l'originale più tutti i tagli che devo erogare, se ogni taglio mi pesa il 20% in più di quello che dovrebbe, ottimizzato, io alla fine ho un consumo di spazio disco significativo. Questa roba qua ha degli impatti in termini di backup, di replica, perché devono essere replicate sulle varie infrastrutture, di banda consumata, di costi delle CDN, quando le CDN si vengono a prendere le immagini, perché calcolano ovviamente quanto erogano e così via. Quindi queste sono cose su cui si può agevolmente portarsi a casa un pezzo di lavoro, perché sono attività relativamente facili, se le condizioni ambientali non sono complicate, con un buon risultato da un punto di vista, vedi questo numero qua è sceso, il nostro peso pagina è sceso, c'è meno roba che viaggia verso l'utente e così via, e sono un inizio, nel senso che può far abboccare utenti, colleghi, clienti e così via, ha senso. Quello secondo me è una delle cose più facili da portare a casa, cioè facili magari no, però insomma io direi che comincerei da lì, perché il resto spesso sono spinose come questioni, cioè togliere uno script bloccante dall'inizio della pagina può voler dire dover rifare 10 inclusioni SSI di roba generica che sta in giro, che viene manutenuta, ma che siccome non viene toccata da un anno e mezzo, nessuno sa che cosa c'è lì dentro e perché viene utilizzata. Tipo che ci sono tre robe che fanno la login sul sito, e sono tutte e tre incluse in pagina, ma nessuno sa quale due si possono buttare via. Queste cose succedono, succedono normalmente intendo, perché si stratifica e quindi c'è della roba che non serve. L'ultima cosa che avete nella slide 7, cioè il settimo premio, quello del trailer, vi ho parlato per esempio di webpack e dei moduli JS. Quello è una roba straordinaria, perché quando voi avete una situazione per cui ci sono tante inclusioni che arrivano da varie parti, perché ci sono parti comuni, c'ho il pezzettino che mi arriva dal sito di news, poi c'è quello dello sport, poi c'è quell'altro che mi arriva dall'altra parte. Ognuno ha il carousel, ognuno si porta dentro il JS del carousel. E voi avete tre pezzi che fanno la stessa identica cosa, proprio lo stesso identico codice, però inserito in pagina tre volte, perché sono queste librerie di JS che includono dentro tutto. Passando ad un approccio a moduli, si può anche fare, a parte webpack e JS moduli, si potrebbe fare anche con require, md, insomma ci sono mille soluzioni, però intendo cominciare ad andare in una direzione per cui uno dice, va bene, se l'ho caricato una volta basta, però ho tutta l'infrastruttura che sa come lavorare in questo modo, quindi tutti i developer, di tutti i vari pezzettini che concorrono a produrre il sito, sanno che si lavora così, sanno che richiedono un'inclusione, se c'è già non si devono preoccupare. Questo per esempio è una roba in cui potreste non dover scrivere una riga di codice e passare un mese per riuscire a mettere tutti d'accordo. E magari a dover spiegare come funziona un approccio moderno a JavaScript basato sui moduli. Perché uno che è abituato, prendo, metto jQuery, metto Bootstrap e vado avanti, fa così, e farà sempre così se uno non insegna a fare diversamente. Ma non è un developer che non sa fare il suo mestiere. Magari è pigro, ecco, l'unica cosa che gli si può dire è magari un po' pigro. Ma questo ti dice, io lavoro 10 ore al giorno perché questi continuano a darmi della roba da fare, io la faccio così perché almeno così porto a casa il risultato. non ti invidio. Grazie, effettivamente le immagini anche io personalmente dove lavoro in Baccheca che facciamo 12 milioni di sessioni al mese, ho iniziato dal basso quindi parlando col grafico, facendoli vedere i tool di ottimizzazione, gli ho fatto vedere Image Optim che è un programmino per me che è anche gratuito e dopo la nostra grafica per esempio è venuta da me dicendo ah ma sai che utilizzo adesso è un'ossessione lo utilizzo anche per i miei progetti personali e per me è stata una soddisfazione, un obiettivo raggiunto e l'altro discorso che avevo fatto era anche quello sui tempi di caricamento che hai citato te che è un fattore psicologico più che diciamo quando mi dicono ah ma tanto la gente in Italia pensa che la connessione è lenta e quindi aspetta perché tanto gli serve il contenuto magari di un certo tipo non è vero perché è un fattore psicologico dopo tot secondi la persona inizia a cambiare il contesto mentale e magari si dimentica come diceva Matteo di cosa stava facendo grazie a tutti grazie a tutti